Il test per l'HIV è negativo. Puntiamo sul tumore. Com'è andata la brasiliana? Direi benino. Fa un po' male. E la teoria di House? Perché l'hai fatto? Sono vanitoso e frivolo. E non lo eri prima? La ragazza con cui stavo non lo era. Non c'è niente di profondo. Non c'è neanche il tumore. Non è il cervello. È tutto a posto. Che succede? Le braccia. Ancora niente? No, fanno male. La parestesia è sparita.